Tiziana, Arianna, Antoniana, Maria Grazia, Giussi, Ivano, Cinzia, Stefani, Nello, Carlo, Martino, Antonella, Vito Cortezia, Sorriso, Disponibilità, Simpatia e Buon Umore, Professionalità, Dedizione nel Lavoro, Efficienza Perché c'è di tutto e di più. Il cliente deve venire da noi perché c'è l'orario continuato. La qualità qui è di casa. Per l'assortimento. Perché saremo aperti anche la domenica. Il cliente viene da noi perché abbiamo tanti prodotti tipici e di qualità. Perché noi siamo la differenza.